Grazie, siete state tutte una luce, parlo anche per Tersiglia, siete entrati in casa nostra, due giorni e mezzo, tostissimi, sinceramente, tostissimi, ieri stesso è andata in a cena, mi ha fatto male, mi ha fatto nulla di notte, grande errore, grandissimo errore, stamattina sbagliati, però è stato fantastico, la trovo molto molto figo che ci siano i ragazzini, perché i bambini, ragazzini, 11, 12, 14, 17, insomma, perché io lo vedo con i nostri figli di quattro anni, sono fantastici, hanno un'immaginazione, sono nel qui e ora, non si fanno domande, quello che è va bene, piangono all'istante dopo, vengono a abbraccio e poi ridono, quindi in realtà dobbiamo rimparare dai bambini, secondo me, c'è tantissimo a insegnarci, quindi questo gruppo che è unito con gente di diversa età, quando vedo Tommaso che parla con la faccia come il culo, scusate, lo trovo divino, lo trovo divino, complimenti a lui, e niente, la tecnica ovviamente è ottima, siamo mega mega felici di aver fatto questi giorni, non vedo l'ora di fare la lettura veloce adesso, e i prossimi corsi, grazie. Grazie a voi, grazie.